...73 per 479, c'è una scheda bianca, la voti 8 e una scheda nulla. Le preferenze sono le seguenti, prima della programmazione vi do le tue un po' per quello che sono. Ricordarmi anche che, stiamo costando in questo caso, il terzo mandato, la federazione prevede il cuore del 70%, però una percentuale si esprime, in questo caso, sui candidati, che è stato candidato unico, diciamo che il risultato è di un certo percento, perché non è spesso sul nominativo unico. Questo è giusto anche perché, per dare coerenza al regolamento federale che prevede appunto il cuore del terzo mandato. Le schede. Nella carina il consigliere di comitato regionale, la mia punta, schede sui candidati 44, voti 487. Le valide per i consiglieri sono 67 per 456 voti, ci sono 7 schede bianche pari a 31 voti e nessuna nulla. Le preferenze. Clara Fulvio 388 voti, Frasci e Domenico 408, una serie a Francesco 356, da Navecchia Paolo 396, costabile la carica di Presidente Cosimo 479. Quindi, programiamo, in questo momento, è stato il mio, per la propria regionale, quindi dialetti, fascista, D'Aretta, Clara e Mazzella. Una cosa che è una generazione promovitare, quindi i dialetti, i segni raggiungono. Potete stare in piedi. Grazie. 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 Grazie.